Con noi c'è Barbara, mamma Barbara, che ha visto i due bambini coinvolti in questa vicenda, c'è anche la dottoressa Arianna Di Biaggio che è portavoce dell'associazione. Parliamo dei bambini di Lignano Flaminio, la tristemente nota storia della scuola materna. Giustamente saluto con affetto Luisa, dice la scuola materna, nonna Francesca, e l'asilo, quando si dice li portavamo all'asilo dalle suore, stiamo parlando di bambini che andavano all'epoca all'asilo. Noi abbiamo letto, intanto continuano ad arrivare tanti messaggi, di questo ve ne sono davvero grato, 342-4151-406 per dire insieme a noi, insieme soprattutto ai nostri ospiti, no alla pedofilia. Non si vuole sacerbare il tono, la discussione deve essere assolutamente composta nel rispetto del dolore diretto e indiretto dei nostri ospiti, che poi indiretto non può essere perché c'è stata una psicosi e perché c'è stata un'esposizione e credo abbia assorbito come una spugna la dottoressa Di Biaggio tutta questa vicenda. Però non serve niente di tutto questo, nel senso non serve la violenza se fosse anche solo un'espressione dialettica, serve compostezza, presenza e rigore e voglia di partecipare così massicciamente come state facendo perché questa è l'unica leva che può scardinare il potere per certi versi inespugnabile della più grande organizzazione di quelle perverse e deviate al mondo, che lo dice l'FBI, che è quella della pedofilia. Io ho letto del professor Montecchi, ho fatto riferimento alla sua attività, ho fatto riferimento ad un'associazione, credo una Ollus, che è ancora in piedi grazie al cielo, il professor Montecchi era premario di riparto di neuropsichiatria al Bambin Gesù di Gabriele Isman. Era il 27 aprile del 2007, cosa è successo al professor Montecchi, dottoressa Di Biaggio? Ma di lì a poco è stato pensionato, credo che fosse già nell'area, però è stato pensionato in realtà a tempi di record, tanto che uscì un comunicato, vado a memoria al Bambin Gesù, appunto in cui si diceva che il professor Montecchi non era più il primario del centro del Girasole, immediatamente dopo diciamo. Questo è uno dei tanti aspetti ovviamente che ingarbugliano la vicenda, ci troviamo di fronte davvero a montagna inestrigabile. E ci fu una cosa, scusate se è l'interruzione, ma è una cosa che mi ritorna in continuazione alla mente che il professor Montecchi disse proprio in quei momenti, cioè lui disse a me sta certificare la realtà clinica, purtroppo non sempre, anzi spesso la realtà clinica non è uguale alla realtà processuale. E riletto diciamo a distanza di tempo sembra quasi sì. Signora Barbara, la porto forse nel passaggio più doloroso di questa vicenda. Professor Montecchi, referti, controlli dal punto di vista medico, alle sue bambine cosa riscontrano? Allora, la grande niente perché ovviamente era passato ormai del tempo. Alla piccola sono state riscontrate delle lesioni, non al bambin Gesù è stato riscontrato una velatura all'imene, che poi peraltro sono venuta a sapere in aula di tribunale a che cosa fosse ricondotta questa velatura. Poi siccome mia figlia lamentava sempre dolori al sederino e al bambin Gesù inizialmente perché fecero una visita. Mi chiedo scusa. È una puntata molto forte questa, ma guai se non fosse così, nel senso che non possiamo togliere neanche un'interpunzione da questi racconti perché non faremo bene il nostro lavoro e non daremo sicuramente lo spazio che merita una vicenda del genere. Mi chiedo scusa. Siccome mia figlia lamentava questi dolori continui al sederino, al bambin Gesù fecero una visita esterna, ovviamente perché sanno una bambina di quattro anni non potevano fare una visita interna. Io a gennaio del 2007, visto che mia figlia cominciava a star male, male a livello di collassi ogni volta che andava in bagno, a quel punto ho deciso di portare mia figlia da un proctologo e questa visita la feci ovviamente parlando con i carabinieri per chiedere loro dove dovessi andare, a chi mi dovessi riferire, se era un ente pubblico privato, la portai al Santo Eugenio da questo proctologo dove diagnosticò una nite rossa. Questo proctologo sapeva ovviamente che c'era in corso delle indagini inerente a questo caso e fece anche una relazione su questa nite rossa. Lei se non va da memoria dovrebbe lavorare nel campo, forse è un medico, ma non interessa poco quello che fa lei. Sì, io lavoro nel campo sanitario. Cosa significa in parole molto più semplici? Allora una nite rossa è un'infiammazione interna dell'ano che in un soggetto adulto può essere causato da diverse patologie, quali intestinali, quali estitichezza o da trauma. Nel caso di un bambino all'epoca di mia figlia di 4 anni è inverosimile trovare una nite rossa, ma si sarebbe trovata una nite blu che è dato da un problema emorroidario e quindi stitichezza. E questo fu scritto dalla relazione di questo medico, cosa che poi dopo, sempre in aula di tribunale intervenne un perito medico legale di fama a livello internazionale, il dottor Bruni, dove lui specificò chiaramente su ogni singolo problema che sono stati trovati a tutti i bambini, sia qual era la patologia o poteva essere riconducibile all'abuso. Esclusa la patologia ne rimaneva soltanto uno di possibilità. Dottoressa Di Biaggio, racconto questo che è un caso a sé stante, un caso isolato o nei vari referti si rinvengono tracce di questi traumi più frequenti anche dalle dichiarazioni del professor Montecchi, credo proprio la violenza sui bambini. C'è un aspetto che l'ha profondamente colpita, anche questo è fortemente toccante come racconto, ce ne sono stati di simili o ancora più gravi? Ci sono tanti aspetti che personalmente mi hanno colpita, al di là di esiti fisici di cui si è parlato in aula, c'è stata anche una memoria depositata dal professor Bruni, che è uno dei medici legali più ferrati in materia in Italia, quindi ha riscontrato dai referti che sono stati presentati tutta una serie di segni che sono sicuramente compatibili con l'abuso e nel momento in cui si va, grazie a Dio, a escludere una patologia. Quello che mi ha colpito è che ci sono stati tanti riscontri, vede, la cosa che mi ha lasciata astordita della sentenza di lunedì. Non è tanto il fatto che non si sia arrivato alla colpevolezza o alla condanna degli imputati, perché non sta a noi, ma è come si siano potuti cancellare sei anni, due anni di processo e tutta una serie di riscontri, case ritrovate, oggetti specifici, voglio dire anche oggetti particolari che i bambini hanno descritto, particolari fisici di cui hanno parlato, bambini Gesù, perizie, la benzo di azepine che sono state trovate in due casi e che sono state riacquisite nel processo a non più di dieci giorni. Stiamo parlando di una sostanza? Stiamo parlando di una sostanza. Io farò queste domande e vi chiedo scusa, ma è importante, perché capisca io per primo e ovviamente tutti gli ascoltatori. Allora guardi, per fare un rapidissimo escluso, quando fu chiesto l'esame tricologico sui capelli dei bambini fu chiamato uno dei massimi esperti, anche lì che è il professor Chiarotti dell'Università Cattolica, per capirci la persona che ha esaminato il comandante Schettino, insomma quando doveva, e lui già all'epoca disse che sarebbe stato molto difficile a distanza di un anno e mezzo trovare eventuali tracce di sostanze. In realtà queste tracce sono state trovate in due casi ed erano fatalità le bimbe, dico bimbe, che avevano i capelli più lunghi perché chiaramente il capello cresce e quindi si va. Poi sembrava per un vizio di forma, perché sembrava che fosse un accertamento tecnico irripetibile, era stato escluso, quindi non poteva essere portato come prova, quando anche queste benzodiazepine c'erano. Le benzodiazepine sono sostanze, una famiglia molto grande, ma essenzialmente il professor Chiarotti le hanno overate tra le droghe da stupro, rape drugs, perché sono, è un tipo di medicinale, che sono mio rilassanti, tendono a cancellare la memoria a breve, è la sostanza contenuta nel Valium per intenderci, ma è una famiglia molto grande. Ecco, a dieci giorni dalla sentenza, siccome era possibile ripetere questo esame, le benzodiazepine sono rientrate nel processo e quello è un altro dato di fatto. Quindi questa sentenza ci lascia con una serie di punti interrogativi che noi non possiamo non colmare, perché non è stato spiegato, aspettiamo ovviamente le motivazioni, però dire che il fatto non sussiste, che quindi questi bambini non hanno mai subito quello che hanno raccontato, diventa inaccettabile.